Idee chiare, voglia di fare le cose con calma e per bene, ma la prima ufficializzazione sembra essere ormai dietro l'angolo e con ogni probabilità riguarderà Danilo D'Amacco pronto a ricoprire l'incarico di nuovo direttore sportivo della Rigortrani. D'Amacco è uno di quelli con cui sono andato a cena volentieri, abbiamo fatto dei discorsi come sono andato a cena anche con altri DS o con altri soci. E' chiaro che dobbiamo incastrare il discorso della struttura della società, nel senso che comunque un direttore sportivo di certo non lo posso nominare io da solo perché se diventiamo quattro soci è anche giusto che tutte e quattro si riuniscano. E' normale che ogni gruppo vorrà portare un suo referente, chi vorrà portare il mister, chi vorrà portare il direttore sportivo, chi non è intenzionato o non è interessato a portare niente rimane solo come sponsor, però è anche giusto che io senta un po' tutti i gruppi nel momento che si riesce a fare questa benedetta entry di società e ho detto però questi giorni sto bloccato per il discorso stadio. Questione comunale. Il presidente Luciano Savi dovrebbe incontrare nei prossimi giorni alcuni rappresentanti dell'amministrazione. C'è da risolvere la questione relativa al manto erboso attualmente in pessime condizioni e poi c'è da trasformare da provvisoria a definitiva la giudicazione della gestione dello stadio. Speriamo che entro pochissimi giorni il comune, l'amministrazione comunale ci dia delle certezze sulla realizzazione dei lavori che vanno fatti allo stadio, dopodiché potrò andare da questi soci che vogliono entrare e dire le situazioni stanno così, anzi potrei anche portare loro insieme dal sindaco a parlare così sentono personalmente come sta la situazione e non ho problemi di visibilità o che io possa fare, anzi ho sempre detto che nel nuovo progetto io potrei anche fare il magazziniere sempre che non si offenda il magazziniere che abbiamo ma non ho problemi. L'intenzione di Savi era e resta quella di coinvolgere anche e soprattutto i tranessi dalla tifoseria all'imprenditoria nel nuovo progetto, le sensazioni emerse negli incontri delle ultime settimane a suo dire sono positive. Adesso sto vedendo che la gente comunque è con noi, la gente è con noi, vuole fare calcio, vuole un progetto serio e questo io proverò a dargli.